Per Tommaso Ranchino, attenzione, Ranchino la mette in mezzo per la vele pepere, chiude Gaddi ancora, Bugoni, attenzione, il numero di Bugoni, il tiro, il gol, l'erenza Bugoni e le Curacao, con Carella, scarica per Portarena, la mette in mezzo, chiude Federico Corvi ma ancora Andrea Portarena, attenzione, Feliceti, il tiro e il gol, c'è il gol di Feliceti che porta in vantaggio Londra, in profondità per Raffaele Pepera, attenzione, Raffaele Pepera il gol, retro di Raffaele Pepera, recupera bene Andrea Portarena, attenzione, c'è il gol, l'assist di Feliceti e il gol di Concarella, e parte adesso il Curacao che è in svantaggio attenzione, c'è il gol, grave errore della difesa di Curacao, attenzione, c'è Feliceti attenzione, si gira Gaddi, il tiro e il gol, rotovico Gaddi, sul pallone c'è Gaddi Gaddi per Feliceti e c'è il gol, c'è il gol di Feliceti allarga per Pizzardi lo scambio, attenzione, ancora Raffaele Pepera, chiude Feliceti sul pallone attenzione, Cica Francesco, per Gaddi, è solo il gol, rete, 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 di lotovico Gaddi Corvi la mette in mezzo, chiude Portarena ancora Portarena, allarga il gioco, la mette in mezzo e c'è il gol di Cica Portarena sale, il tiro e c'è il gol di Portarena Portarena all'assist per Gaddi, ancora Gaddi, vediamo la mette in mezzo e c'è il gol di Cica doppietta, cari Ranchino, interviene Cica che ha disputato un grandissimo match questa sera lo scambio con Portarena ancora Gaddi, il tiro e il gol del 12 a 2